Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video davvero molto molto particolare perché andremo a scoprire le mie origini visto che qualche settimana fa sono entrato in contatto con MyHeritage che è un'azienda che si occupa di realizzare dei test del DNA, delle mappature genetiche e grazie a questo test che vi arriva comodamente a casa potrete scoprire quali sono le vostre origini perché ebbene sì nonostante quello che possiate pensare non è che siamo 100% italiani, nessuno di noi lo è perché il nostro essere qui oggi è frutto di tantissime tantissime influenze del passato io ad esempio vivo in Sicilia ma la Sicilia è stata dominata per tantissimo tempo ad esempio dagli arabi, dai normanni, dai greci quindi sicuramente nel mio DNA ci sarà un po' di tutte queste culture anche perché sono abbastanza scuro di carnagione quindi sono sempre stato molto curioso di sapere esattamente da dove io arrivi ad esempio mia mamma mi racconta che quando ero bambino avevo una strana incavatura nella mia coscia e all'epoca il dottore le disse che si trattava di un segno distintivo delle popolazioni mongole quindi ragazzi io non lo so, c'è sempre stata questa storia raccontata in casa mia ma non ne ho mai avuto la certezza e quindi direi che questa è l'occasione giusta soprattutto credo sia anche l'occasione giusta per parlarne in un momento storico come questo quando si parla di censimento dei ROM e di chiusura di frontiere e di davvero poca poca umanità nel nostro paese ultimamente quindi ragazzi ecco che adesso abbiamo qui tra le mani questo kit che si apre in modo davvero finissimo guardate mi è piaciuto un sacco quando l'ho visto la prima volta e all'interno ecco che troviamo il codice per attivare online il nostro kit che è stampato anche qui lo mettiamo da parte poi andrò sul sito a registrarmi e troviamo anche questa bustina dove andare a inserire i nostri campioni una bustina trasparente con scritto biohazard e poi abbiamo due boccettine con del liquido all'interno e questo qui che è un tampone anzi in realtà sono due tamponi che serviranno per prendere il mio campione di DNA e adesso lo faremo assieme il tutto sembra essere davvero molto molto semplice ragazzi basta leggere le istruzioni la cosa importante è non aver né bevuto né mangiato nella mezz'ora precedente al prelievo dei campioni quindi andiamo a prendere il nostro primo tampone ecco qui e lo andiamo ad aprire assieme e andiamo a prelevare del materiale dalle mie guance una volta nella guancia destra la seconda volta nella guancia sinistra ecco qui il primo cotton fioc gigante e lo andiamo ad inserire nella mia guancia cominciamo dalla destra ok dopo averlo tenuto in bocca per circa 30 secondi andiamo a prendere la prima boccettina la apriamo e andiamo a rompere dove c'è questo segno nero qui il nostro campione quindi lo inseriamo qui dentro e lo andiamo a spezzare ok è stato molto semplice pensavo molto molto peggio e andiamo a mettere il tappetto adesso ripetiamo la cosa dall'altra parte quindi prendiamo quest'altro bastoncino e sfreghiamolo per 30 secondi nella guancia sinistra ok ci siamo adesso andiamo a inserire anche il secondo campione nella boccettina lo mettiamo qui e la spezziamo ok e andiamo a ricludere anche questo barattolino ora prendiamo la nostra bustina con scritto biohazard la apriamo c'è all'interno un specie di tamponcino ma non so cosa serve io lo lascio lì dentro e inseriamo la prima e la seconda provetta andiamo a chiudere tutto per bene e adesso lo infiliamo all'interno di questa bustina già precompilata lo mettiamo qui inseriamo tutto qui dentro per bene e adesso non mi resta che andare presso un ufficio postale e andare a spedire i miei campioni e attendere che arrivino i risultati via mail che poi andremo a guardare assieme io per il momento concludo qui il video e ci rivediamo tra qualche settimana busta inviata in Texas ragazzi è costata 4,50 euro posta prioritaria internazionale adesso aspettiamo un mesetto e poi vediamo i risultati ed eccomi di nuovo qui ragazzi è passato poco più di un mese è finalmente arrivata la tanto agognata email di MyHeritage con i miei risultati non sto più nella pelle finalmente scopriremo se il mio pediatra aveva ragione e quindi se appartengo alle tribù mongole o comunque se veramente sono italiano al 100% come penso fin da bambino quindi ragazzi direi di avviare immediatamente la registrazione dello schermo andiamo a cliccare qui ok ci siamo registra lo schermo perfetto registrazione partita quindi adesso non ci resta che andare a cliccare su guarda i tuoi risultati del DNA sulla mail che mi ha inviato MyHeritage e andiamo ad aprire il link ecco qui che carica allora Antonio sei pronto a scoprire la tua etnia? ragazzi siamo pronti quindi clicchiamo su inizia e scopriamo sono davvero super super emozionato è davvero molto molto bella la sensazione già solo per questo io vi consiglierei di farlo ma clicchiamo su inizia eccoci qui su spanza Antonio tu sei ecco qui il nostro mondo 41,2% greco ragazzi greco ci può anche stare 37,6% italiano quindi sono più greco che italiano 11,4% medio orientale quindi qui si va a spiegare il mio essere scuro di carnagione 8,6% nord africano Tunisia, Marocco, Algeria, Libia e Egitto ancora è 1,2% nigeriano wow ragazzi non me l'aspettavo non me l'aspettavo perché io più che altro speravo ci fosse qualcosa del nord Europa non so perché o magari Spagna, Portogallo perché mi scambiano spesso per spagnolo quando sono all'estero e invece no invece no ragazzi non so veramente che dire 41,2% greco essendo io siciliano però ci sta ci sta tutto i greci sono stati importantissimi in Sicilia sono stati presentissimi quindi nel mio DNA c'è 41,2% di Grecia Grecia che poi andando a cliccare vediamo cosa andiamo a scoprire si può cliccare qualcosa resumo comunque ragazzi il pediatra non aveva per niente ragione visto che non c'è traccia di etnie mongole nel mio DNA quindi ha detto semplicemente una stupidaggine che mia mamma mi racconta da anni e anni che finalmente dovrà smettere di raccontare alla gente quindi benissimo vediamo poi la cosa che mi lascia alquanto perplesso è quell'1,2% di Nigeria io sinceramente questa non me la spiego magari mi spiego in Nord Africa visto che comunque ragazzi arriva gente dal Nord Africa in Sicilia continuamente anche oggi quindi sicuramente qualche mio antenato magari si sarà imparentato si sarà sposato non lo so con un tunisino o una tunisina o un algerino non lo so ragazzi Egitto, Libia, Marocco sono comunque paesi molto molto vicini alla Sicilia quindi 11 no, 9,8% Nord Africa e addirittura 11,4% Medio Oriente anche questo è molto molto interessante il Medio Oriente che va a coprire soprattutto la zona dell'Arabia Saudita questa zona qui quindi wow comunque io trovo questa cosa davvero molto molto interessante molto affascinante e sarebbe ancora più bello riuscire a farlo fare anche a tutta la mia famiglia e poi andare ad incrociare vari dati per capire se ad esempio la parte del Nord Africa arriva da mia mamma o da mio papà è lo stesso la parte greca oppure ancora meglio la parte della Nigeria che è quella che mi incuriosisce di più però vedo che qui in alto troviamo corrispondenza del DNA quindi andiamo a cliccare qui e vediamo cosa mi appare qui mi dice mi dice che ci sono delle persone che hanno del DNA in comune con me e praticamente me le ordina in base a quanti segmenti abbiamo in comune e addirittura c'è una persona che potrebbe essere il mio cugino di terzo grado con la quale condivido addirittura l'1,3% del DNA che non è per niente poco direi perché ho visto altri video dove il risultato più alto era 0,2-0,3 quindi 1,3 è già abbastanza alto perché ad esempio padre e figlio condividono al massimo il 50% del DNA quindi 1,3 non è per niente poco e qui addirittura mi dice contatta quindi potrei addirittura mettermi in contatto con questa persona e credo proprio che lo farò è italiano ed è un uomo che ha tra i 60 e i 70 anni e suo figlio condivide con me l'1% del DNA suo figlio invece è compreso tra i 40 e i 50 anni hanno ovviamente lo stesso cognome che non dirò per rispetto della privacy ma il cognome non mi dice nulla non è un cognome che mi è familiare quindi sono davvero molto molto curioso io ragazzi consiglio davvero di fare questo test del DNA questa analisi perché potreste togliervi molti dubbi ad esempio il mio era quello che mi aveva messo in testa il mio pediatra da piccolo che finalmente è stato assolutamente smentito comunque ragazzi io in definitiva alla fine di questo viaggio durato quasi due mesi mi sento assolutamente di consigliarvi questa esperienza fatela condividete queste cose con la vostra famiglia fate fare questo test alla vostra famiglia perché davvero è molto molto interessante sono super contento ho scoperto di più su me stesso probabilmente anche sulla mia famiglia indagherò contatterò questa persona che condivide con me così tanto DNA spero di ricevere risposta perché sarebbe molto molto bello parlarci e scoprire cosa sa lui della nostra famiglia come siamo imparentati quindi queste cose mi hanno sempre affascinato ho sempre cercato di scoprire di più sulle mie origini sui miei bisnonni sui miei trisavoli non ho avuto mai tanta fortuna e questa cosa mi dà tanta tanta soddisfazione e a questo punto ragazzi io passo la palla a voi fatemi sapere nei commenti se voi avete già fatto un test del genere se avete intenzione di farlo se dopo aver visto questo video magari vi siete convinti a provare a imbarcarvi anche voi in questa avventura e soprattutto fatemi sapere cosa pensate dei miei risultati e se avete magari delle spiegazioni plausibili ad esempio al fatto che nel mio DNA ci sia l'1,2% di Nigeria perché io questa cosa assolutamente non me la so spiegare il resto si perché comunque sono molto scuro di pelle mia mamma è ancora più scura di me quindi le influenze dell'Arabia Saudita del Nord Africa ci possono anche stare ci stanno tutte secondo me siamo molto molto scuri ci sta la Grecia ci sta l'Italia ma la Nigeria non saprei proprio quindi qualora qualcuno di voi sapesse darmi qualche informazione sarebbe super gradita sotto nei commenti bene ragazzi io a questo punto ringrazio ancora MyHeritage per avermi inviato questo kit sarà davvero un'esperienza molto molto bella spero di avere altre occasioni in futuro di fare cose del genere perché davvero mi piacciono tantissimo fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti come vi ho detto mi raccomando lasciate un mi piace commentate condividete il video con i nostri amici e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità ciao ciao